Ecco che la Sansaridu con 9.50 va a collocarsi al settimo posto per cui al termine della prima serie di esercizi l'agronatore avrà il comando Oksana Scaldina con il 10 ottenuto nella prova alla FUNE, al secondo posto pari merito l'altra sovietica Alexandra Timoshenko e la bulgara Cristina Ceccherua con 9.75, al quarto ancora la seconda delle bulgare Mila Marinova con 9.70, al quinto la romena Irina Deleanu, al sesto la spagnola Monica Ferrandez davanti appunto alla Maria Sansaridu la greca che poco fa ha eseguito l'esercizio con il cerchio, all'ottavo la polacca Joanna Bodak davanti alla connazionale Lisa Biaikowska, al decimo la cinese Shasha Guo e undicesima è la nostra Samantha Ferrari, ventiduesima l'altra Zurre in gara Irene Germini sulle 26 finaliste, Mari Fusesi intanto canadese, ha iniziato la seconda rotazione dopo la FUNE, primo attrezzo nella prima rotazione, per lei ora il cerchio. Coevolgente anche il tango scelto dalla Canarese per la sua prova con il cerchio.